Un benvenuto all'angolo della redazione a Bintu, abbiamo concluso questa giornata di gara, abbiamo visto che non sei finita in finale, ci dispiace, ma come è andata comunque la giornata? C'era divertita? Sarà comunque una bella giornata? Sicuramente, sono divertita, è stato molto interessante quanto ci pare, anche se sono uscita un po' fuori tempo, succede comunque, sono divertita. Sì, è la tua prima apparizione, comunque già, come dicevano tanti altri colleghi, già è bellissimo essere qua, quindi immagino che sono qui. Ti chiediamo anche per te, velocemente, il tuo drink, se lo descrivi? Allora, io praticamente, avendo usato il Panama, volevo riportare i sentori della scela del drink, mettendo gelato al manto, cioccolato bianco e della panna fresca, l'espresso ovviamente. Poi a parte avrei messo un bicchiere con un'infusione di viso e dell'arancia, sempre per riportare i consigli dove... Sarebbe assaggiato, siamo così, sto curioso, però, volta è andata. Ti ringrazio, in bocca al lupo per la tua carriera da barista e tutto quanto, grazie, ciao.